Benvenuti a TGM, il telegiornale ed è il giornale della giornata. I titoli di oggi. Scuola elementare in tempi record ad amatrice. Bill Clinton sostituirà temporariamente la moglie. 20 miglia, troppi migranti nel centro di accoglienza. Al porto di Marsiglia muore durante esercitazione. Approvato alla Camera e rendi conto dello Stato. Si è spento oggi a Roma lo scrittore Ermano Rea. Twitter allunga i messaggini della piattaforma. Condanne in primo grado sulla morte di Morosini. Ad amatrice è stata costruita in tempi record da parte della protezione civile della provincia autonoma di Trento la nuova scuola elementare. Si tratta di un edificio composto di diversi moduli assemblati tra loro. Il sindaco di amatrice Pirozzi, il capo della protezione civile Fabrizio Scurcio, il direttore reggente della struttura modulare Maria Rita Pitoni e il presidente della provincia autonoma di Trento Ugo Rossi, senza dimenticare il ministro dell'istruzione Stefania Giannini, sono stati presenti al primo giorno della nuova scuola. Su Twitter, Matteo Renzi e il ministro dell'infrastruttura Garziano del Rio hanno rispettivamente ringraziato con un tweet la riuscita della costruzione. Bill Clinton sostituirà temporaneamente la moglie Hillary nella sua campagna elettorale in America. I medi americani danno notizia che la candidata democratica alla poltrona presidenziale degli Stati Uniti presenzierà venerdì ad un evento a Washington di una organizzazione che rappresenta donne afroamericane. Dopo il malore di qualche giorno fa ripreso dal Twitter diffuso in tutto il mondo e la notizia della polmonite certificata dal suo medico, la Clinton si fermirà qualche giorno per ristabilirsi. Il sito del quotidiano Il Secolo XIX ha pubblicato la notizia secondo cui nelle ultime 48 ore sarebbero arrivati al centro di accoglienza del Parco Roia di Ventimiglia, attualmente gestito dalla Croce Rossa, circa 200 migranti, portando così a 800 il numero totale dei migranti ospitati. Il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, dal suo profilo Twitter, sottolinea in un tweet lo stato di emergenza in cui versa questo centro di accoglienza. Il responsabile del centro, Walter Muscatello, ha dichiarato sempre nella notizia del secolo XIX e si aggiungeranno già da domani mattina 5 soggetti ai 15 già presenti e agenti nella struttura. Nel porto di Marsiglia, un morto e 4 feriti per una scialuppa di salvataggio precipitata dalla nave della crociera Harmony of the Seas. Secondo il quotidiano francese La Provence, ripreso dal sito del quotidiano La Repubblica, si trattava di una esercitazione a cui i passeggeri infortunati e il morto stavano partecipando. La nave, appartenente alla flotta della compagnia Royal Caribbean e gemella delle due navi Allure e Oasis, sempre di Royal Caribbean, si trova ormeggiata nel porto. Con 303 voti favorevoli e 176 contrari, la Camera dei Deputati ha approvato il rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato. Si tratta, secondo la spiegazione pubblicata sulla sezione Ragioneria dello Stato del sito del Ministero dell'Economia, del documento che permette di verificare le modalità e la misura in cui ciascuna amministrazione ha dato attuazione alle previsioni del bilancio. Il Ministero dell'Economia è obbligato a presentarlo alle Camere entro il 30 giugno dopo la chiusura delle attività del bilancio dello Stato, il 31 dicembre di ogni anno. Ne dà notizia su Twitter la Camera dei Deputati. Lutto nel mondo della cultura E' morto oggi nella sua casa a Roma lo scrittore Ermano Rea. Vincitore del premio Via Regio nel 1996 e del premio Campiello nel 99, lascia una importante quantità di libri e inchieste pubblicati nella sua vita di scrittore e di giornalista per numerosi giornali. Nel 2014, come riporta Wikipedia nella pagina personale di Rea, era stato candidato per le europee come capolista nella circoscrizione Italia meridionale del partito di Alexis Tsipras, l'altra Europa con Tsipras. Ma non fu eletto pur collezionando 11.000 preferenze. E' morto all'età di 89 anni. Twitter cambia registro Secondo quanto riportano i siti di informazione specializzati, uno dei siti della digital media company Box Media, denominato The Verge, ha diffuso la notizia per cui dal lunedì 19 settembre Twitter cambierebbe le regole di pubblicazione dei tweet. In pratica per gli utenti si amplierebbe la quantità di carattere e di pubblicazione, sparendo le limitazioni di link e di user dopo la chiocciola, che attualmente assorbono parte della quantità massima di caratteri per il singolo tweet. Lo sport La giudice d'arcangelo del Tribunale di Pescara ha condannato in primo grado i tre medici, quello della squadra di calcio del Livorno, quello del Pescara e quello del 118, per il loro intervento nel 2012 sul campo di gioco sul calciatore Pier Mario Morosini, giocatore all'epoca del Livorno, che durante la sua ultima partita si accasciò per un malore e successivamente morì. Oltre a loro, condannati la ASL Pescara e il Pescara Calcio per lo stesso fatto. I cinque condannati sono obbligati a pagare una provvisionale, una specie di ammenda ancora da definire, di 150.000 euro. Con questo si conclude il TGM di oggi. Ci vediamo domani sera.